E' giunto a Metauriglia il motopontone in attesa del rimorchiatore chiamato Al-Qaid che trainerà il trasporter per la realizzazione delle scogliere nel tratto a sud del Metauro. Le tempistiche hanno avuto uno slittamento a causa di problemi di autorizzazione non riconducibili all'amministrazione comunale, ma ora, come annuncia il vice sindaco e assessore alla difesa della costa, Cristian Fanisi, finalmente ci siamo. Assessore motopontone è arrivato, una buona notizia per la città? Sì, uno è già arrivato, si chiama il Ferdinando, è qua a Fano, ne arriverà anche un altro, perché la ditta Slimar che dovrà fare i lavori di Metauriglia e anche finire quelli che ha iniziato di Sassonia e Ponte Sasso, ovviamente ha i tempi molto stretti, gli abbiamo dato tempi molto stretti e con lo spirito di collaborazione ovviamente abbiamo cercato di organizzare al meglio il lavoro, quindi le attività correranno parallele. Per l'intervento, ha spiegato l'assessore, è stato necessario prelevare 100.000 tunnelate di scogli dalla vicina Croazia. Il tratto è interessato a Metauriglia per la difesa della costa, si estende per circa un chilometro e 300 metri, e il lavoro consiste nella realizzazione di sei scogliere emerse, di cui quattro da 160 metri e due da 200 metri. A completare l'opera, due pannelli frangiflutti, uno a nord e uno a sud, rispettivamente, di 65-60 metri. Saranno numerosi mezzi navali che faranno la spola tra l'Italia e la Croazia. Saranno diversi viaggi perché ogni motopontone porta dai 4.000 ai 6.000 tonnellate, quindi vi lascio immaginare che il lavoro che aspetterà questa città per la difesa della costa è un lavoro importante, veramente importante. Oltre alle 100.000 tonnellate di scogli che arrivano dalla Croazia, altri 50.000 verranno spostate, sono già in loco, quindi verranno salpate e sistemate più a largo. Un lavoro possibile grazie all'intervento della regione, di RFI, che hanno messo 2 milioni di euro di circa per uno, ma con la direzione del lavoro del provveditorato dell'Opera Pubblica di Ancona, dove il comune fa da regia e ha fatto il progetto che in questo momento stiamo realizzando. Quando termineranno questi lavori, invece, cosa è previsto in Sassonia? Viste le quantità metauriglia, noi ci aspettiamo circa 10-12 mesi di lavoro. Sassonia, invece, devono finire la stessa ditta che è stata incaricata, deve terminare il lavoro già iniziato da tempo per completare le due scogliere, mentre a Ponte Sasso sono previsti dei salpamenti, manutenzione straordinaria delle scogliere esistenti. Quindi sono tantissime attività che per fortuna faremo fare alla stessa ditta e dunque, ovviamente, nell'ambito della loro organizzazione di cantiere potranno compiere e chiudere prima dei tempi, diciamo, e quindi sicuramente prima dell'estate.